14.036, 14.036 Ragazzi, cosa vi devo dire? A me il suo nome Cosa dice la Italia? Mi assicuro che lei non è una donna, fa finta Ragazzi, possiamo rimetterci un attimino nella posizione? 14.036 Ci possiamo rimettere un attimino in posizione? Girate tutti i cartelli Giratemi Scusa, ripartete il suo Eeeh, ha presunto Il nostro ha presidato No Hanno vinto le donne Ovviamente No, ovviamente No No